ciao a tutti sono edoardo renzi titolare della turbocharger world e da oltre 15 anni sul mercato delle preparazioni oggi parliamo di tre errori fatali per quello che è la turbina e per non romperla e aumentare quella che è la sua vita media il primo errore che tutti quanti fanno perché non sono consapevoli di che cosa sta capitando all'interno del motore all'interno della turbina è l'utilizzo di un filtro dell'aria originale e non sportivo questo filtro dell'aria se voi lasciate quello originale rischiate di far lavorare la turbina sottovuoto soprattutto se poi dopo l'avete preparata creerete ancora di più stress su quello che è il turbo un filtro dell'aria sportivo permette un passaggio dell'aria molto più alto e soprattutto dare più ossigeno alla turbina questa abbasserà oltretutto anche le temperature dell'aria migliorando il rendimento e abbassando quello che sono i consumi questo è uno dei segreti dell'elisir lunga vita in cui lo troverete anche all'interno di tutti e due i videocorsi questa informazione molto più ampia secondo errore importantissimo è fare i tagliandi ogni 30.000 chilometri evitatelo assolutamente perché l'olio dopo i 15.000 chilometri tende a non essere più a non avere più le qualità che aveva all'inizio e questo può portare grandissimi problemi alla salvaguardia della vita della turbina che cosa succede succede che si potranno creare dei residui carboniosi all'interno la turbina rischierà l'alberino di toccare le boccole e via via piano piano inizierà a rompersi il problema è non lo vedrete subito ma lo vedrete magari dopo 20 30 40 50 60 mila chilometri e non penserete mai che possa essere l'olio la causa di tutto quanto quindi mi raccomando tagliandi ogni 10 15 mila chilometri e olio buono ricordatevi che l'olio è come il sangue per gli esseri umani deve essere sempre efficiente deve essere sempre pulito e deve essere sempre di alta qualità in questa maniera allontanerete tantissimi problemi ma una cosa che nessuno vi dice aumenterete le performance e abbasserete anche i consumi quindi mi raccomando questo è uno dei segreti fondamentali per aumentare la vita di quello che è il motore e la turbina terzo fattore assolutamente da che sconsiglio in assoluto è mantenere quelli che sono il fap o il dpf o il catalizzatore eliminateli perché dopo 100 mila chilometri rischiate che si intasino creino grandissime contropressioni e se preparate la macchina crea un grandissimo shock termico è tantissimo a quello che è la girante di scarico questo creerà grandissimi problemi di tenuta sulla parte delle boccole e dei paraoli e inizierete a perdere olio piano piano questo è un fattore determinante per incrementare ancora di più quello che è la vita media soprattutto se preparate la macchina quindi il catalizzatore o il fap devono essere tolti a fronte di un catalizzatore sportivo 200 celle o eliminati completamente in base alle esigenze che voi avete e alla potenza che volete ottenere questi tre aspetti fondamentali sono aspetti che devono essere tenuti sempre in mente perché è la differenza tra avere una macchina sempre a rischio o girare in tranquillità e col cuore in pace queste informazioni nessuno ve le dà perché tutti quanti cercano esclusivamente di tacere su informazioni che possono allungare la vita dei componenti a fronte di farvi tornare e lucrare su di voi di nuovo e soprattutto non dicendovi che lo già lo sapevano ma dire che è una cosa casuale che è un caso e quant'altro non credeteci questi sono dogmi inutili e fuorvianti che loro vi dicono solo per dare la colpa a voi o scaricare la colpa da qualche altra parte ricordatevi molto bene che queste cose sono dei segreti che ho imparato durante la mia esperienza e durante i miei oltre 15 anni di preparazioni soprattutto sui motori e sulle turbina tenetevi veramente strette perché queste sono regole d'oro